Ciao a tutti, vediamo in questo video le regole della brava sedutrice. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai scegliere tra diversi livelli, potrai partecipare ad apposite live mirate dove farmi delle domande alle quali io darò delle risposte nelle chat. Cioè tu mi fai la domanda nella chat e io ti risponderò, ma le live sono solo per abbonati. E adesso veniamo al tema, veniamo al tema e il tema è proprio quello delle regole della brava sedutrice. Allora la prima regola che una brava sedutrice dovrebbe tenere in considerazione è che deve imparare a gestire il processo di seduzione come un gioco, quindi con distacco dal risultato, come un qualcosa di piacevole che può avvenire diciamo mantenendo distacco dal risultato senza essere diciamo legata, senza essere bisognosa, perché se sei legata ai tuoi bisogni non riuscirai a viverti bene alla seduzione. La seduzione deve essere un gioco e questo gioco deve manifestarsi, può manifestarsi diciamo in mille modi. Quindi è molto importante sviluppare, portare avanti il gioco della seduzione. Quindi questa è fondamentale, sembra una cosa da non sottovalutare, ma è fondamentale. Poi per quando conosci un uomo nuovo, tieni presente che le prime impressioni sono molto importanti. Gli uomini sono molto attratti dall'aspetto fisico. Diciamo che l'aspetto fisico è la molla che genera attrazione in un uomo e questo avviene molto molto rapidamente. Possiamo dire, potremmo dire nell'ambito di secondi forse, ma possiamo anche dire nell'ambito di minuti, non è questo il problema. Però quindi quando devi incontrare un uomo o comunque, siccome un uomo lo puoi incontrare in qualunque circostanza, è molto importante essere sempre femminile. Essere sempre femminile è veramente la cosa fondamentale se vuoi conquistare, se vuoi sedere un uomo. Quindi questo devo dire che veramente è l'aspetto fondamentale, l'aspetto principale. Se tu non cerchi di conquistare un uomo o di sedere un uomo senza essere femminile, beh, partirai già male perché non scatterà quella prima attrazione. Quindi è molto importante per una donna curare molto l'aspetto visivo nei dettagli. Quindi curare molto l'aspetto visivo significa essere elegante, raffinata, sexy e sensuale, ma non volgare. Perché se no scattano pure i meccanismi di difesa. Quindi il maschio inizia a pensare, diciamo, male, insomma, da un punto di vista logico. Magari non subito, ma poi ci ragiona sopra, insomma. Quindi se tu vuoi realizzare, vuoi che si innamori, perché l'aspetto fisico attrae, ma poi l'innamoramento richiede le emozioni. Quindi un'altra regola fondamentale è quella di saper gestire il linguaggio del corpo, saper gestire la comunicazione non verbale. Perché attraverso la comunicazione non verbale fai passare molti messaggi. Ad esempio puoi far passare il messaggio che non sei una donna facile, perché l'uomo ha bisogno di cacciare un pochettino. Quindi utilizza un linguaggio non verbale in cui magari prendi un pochettino le distanze, mantieni il contatto oculare, ma se lui ad esempio si avvicina ti allontani un pochettino. Proprio da un punto di vista della prossemica. Questo allontanamento, quando si avvicina, beh, gli fa intendere che lui deve ricoprire il ruolo del gatto che rincorre, perché tu stai ricoprendo il ruolo della topa che fugge. Questo è importante. Altra cosa che spesso viene sottovalutata, ma in realtà è molto molto importante, è essere originale. Essere originale significa che devi comunque essere una donna che si distingue dalle altre, perché se no, se non appari diversa, ma proprio nel modo di fare, nel modo di portare, ma anche nell'abbigliamento, negli accessori, insomma, se non hai qualcosa che ti contraddistingue dalle altre, cadrai in una sorta di rumore di fondo, per cui tu verrai assimilata a tutte le altre, insomma. Quindi questo è quello. Quindi un'altra cosa è che devi sapere interagire anche a livello logico-razionale, quindi cerca di avere una cultura, perché poi le donne che gli uomini veramente vogliono frequentare sono quelle che hanno anche una cultura, che ci sanno fare, che parlo di uomini di qualità, non parlo di uomini che abbiano una bassa qualità, diciamo, ma gli uomini di qualità vanno comunque a ricercare delle donne che anche da questo punto di vista dimostrino di essere delle donne con un livello culturale elevato, elevato soprattutto non di conoscenze, ma proprio nel saperci fare. Devi sapere anche guidare un po' la conversazione, quindi guidare la conversazione quando interagisci con un uomo vuol dire spingerlo ad aprirsi, cioè con qualche domanda aperta, perché più lui si apre, più tenderà a coinvolgersi e più tu potrai avere informazioni, diciamo, potrai avere informazioni per capire se veramente questa persona potrebbe essere quella giusta per te. L'importante è che non proietti all'inizio, cioè che le proiezioni non avvengano all'inizio, ma che tu possa essere libero, diciamo, da queste proiezioni, insomma, che tu possa essere una persona in grado di fare veramente le cose fatte bene. E un'altra cosa interessante è che devi saper sedurre in qualunque ambiente. Quindi perché un uomo lo puoi incontrare, puoi fare un incontro al supermercato, come, diciamo, una conferenza, come da qualche parte. Quindi essere sempre pronta, cosa vuol dire? Beh, saper sorridere, avere lo spirito di gioco sempre attivo dentro, insomma, non essere bisognosa, ma tra l'altro un'altra cosa importante è che è questa, che se tu impari, questa è la regola poi base, impari a essere un po' sfuggente, vedrai che gli uomini ti inseguiranno. Se invece sarai una donna che insegue, che tartassa, che manda cose, beh, otterrai l'effetto contrario, otterrai l'effetto che gli uomini si allontaneranno da te. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai partecipare ad apposite live mirate dove darò delle risposte precise alle tue domande. Ciao a tutti!